Sto portando al Consiglio regionale un'interrogazione. Questa interrogazione riguarda il complesso agricolo delle colline livornesi che è gestito a titolo gratuito dalla sezione livornese del CAI e da quella della Lega Ambiente. Hanno sempre portato avanti un'opera di manutenzione e ora si vedono richiedere da quello che è il nuovo ente in sostituzione della provincia di Livorno e di Grosseto, l'Unione delle Colline Metallifere, un pagamento a titolo di rimborso di canone dell'area della quale si stanno occupando per quanto riguarda la forestazione e la montezione del verde. I consiglieri regionali del PD non hanno fatto altro che ulteriormente complicare quella che la già poco chiara legge del Rio dava come indicazione sulla riorganizzazione delle province. Quindi questo è un caso inevitabile che si viene di nuovo a ricreare e pertanto ci aspettiamo che l'Unione delle Colline Metallifere ritorni indietro su questa decisione e pertanto mantenga gratuito quello che è il canone della gestione di questa azienda agricola delle colline livornesi.